La blu economy e la difesa dell'ecosistema marino sono stati i principali argomenti trattati durante il workshop coordinato dall'Ocse e dalla stazione zoologica Anton Dorn. Una a due giorni che si è tenuta a Napoli nella sede dell'ente di ricerca. Non c'è futuro per l'economia se questa non è rinnovabile e sostenibile nel tempo e gli oceani sono un grande banco di prova perché adesso non possiamo dire che non sapevamo che dovevamo utilizzare le zoolose in modo diverso e quindi coniugare crescita economica con una sostenibilità per il futuro è una vera priorità ma anche una sfida. La stazione zoologica ha un ruolo centrale perché è l'istituzione che rappresenta l'Italia all'interno del grande progetto sull'economia degli oceani che è stato lanciato dall'Ocse e di cui questo workshop fa parte per cui sicuramente un ruolo centrale e come promette di avere un ruolo centrale anche per il futuro visto anche la recente formazione del cluster Blue Growth che avrà proprio sede qui a Napoli della stazione zoologica. Il workshop ha visto la partecipazione di circa 50 esperti internazionali provenienti dai più illustri centri di ricerca dal settore privato alle organizzazioni intergovernative. Ci sono due definizioni di sostenibile. Una è la sostenibilità economica cioè se io investo 100 devo guadagnare almeno 120 altrimenti non è sostenibile. Poi c'è la sostenibilità ecologica e cioè se io investo 100 e ottengo 120 questi 20 da dove vengono? Di solito vengono dall'erosione del capitale naturale. Il capitale economico cresce a spese del capitale naturale. Sostenibile vuol dire che il capitale naturale non viene eroso altrimenti diventa ecologicamente insostenibile. Un'impresa può essere economicamente sostenibile e finora abbiamo pensato solo a questo. Le spese derivanti dalla distruzione del capitale naturale sono state esternalizzate dalle analisi costi-benefici. È una truffa, significa nascondere i costi facendo vedere solo i benefici. La sostenibilità ecologica è l'unica forma di sostenibilità. La Blue Economy chiede questo. Vogliamo la crescita del capitale economico ma non vogliamo che si distrugga il capitale naturale perché è più importante del capitale economico.